Bonico che ha fatto questa meticolosa storia del percorso del cardinale Fabrizio Rufo che pure lui era un personaggio un po' particolare perché era cardinale ma non tanto gli piaceva era laico, lui il cardinale la vita religiosa non gli saddiceva era stato un periodo esiliato in Umbria, insomma anche lui era un personaggio che ha vissuto molto però di questo vorrei che ci dicessi tu Sì Grazie